eccomi sotto i famosi portici via saragozza sto raggiungendo palazzo albergati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ok ragazze allora come vi pare questo posto molto bello molto interessante io lo vedo per la prima volta e sono piacevolmente colpita abbiamo già lavorato a un'idea di progetto e siamo pronte con gli ultimi dettagli pronte alla battaglia pronte alla battaglia Dani tutto a posto? assolutamente tutto scritto, tutto segnato vera, pavolosa fantastico che due professionisti incredibili grazie ragazze grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te